Da questa mattina una pattuglia di operatori della ASL Napoli 3 pattuglierà l'area archeologica di Pompei a caccia di cani randaggi che storicamente circolano indisturbati tra le rovine della città. Il problema dei cani, spesso finiti in prima pagina come il simbolo del degrado e dell'incuria della zona, sarà risolto da un'impresa di Ottaviano che ospiterà gli animali nel suo canile. Le ricerche proseguiranno per tre giorni, ma hanno già suscitato decise proteste da parte degli amici degli animali. A far sentire per prime il loro dissenso sono state le guide turistiche che hanno inviato una lettera al sovrintendente e alle testate giornalistiche, minacciando di coinvolgere anche le ambasciate straniere in Italia. Come mai, chiedono, i cani sono diventati capro espiatorio del degrado di Pompei? Gli animali, aggiungono, sono la sola nota di allegria, di simpatia e di dolcezza in un sito per decenni abbandonato a se stesso. Molti dei randaggi, assicurano i rappresentanti delle guide, sono già sterilizzati e dotati di microchip a cura delle associazioni di volontariato. Quello del randagismo, concludono, è un fenomeno già sollevato in passato e tutte le volte sono giunte dal mondo intero lettere di solidarietà da parte degli amici degli animali.